Allora, con Mr. Flaviano Pinna al termine della partita persa dal Cotton Club per 5-1 contro la Roma Calciotto. Mr. io penso che la partita di oggi abbia fotografato parzialmente la situazione attuale del Cotton Club. Avete creato comunque tante, molte occasioni da gol e molte probabilmente dovevano essere segnate dai tuoi giocatori. Così non è stato e sul 3-1, sul 2-1, avete subito un gol casuale che vi ha un po' tagliato le gambe e non siete più riusciti ad entrare in partita. Sì, innanzitutto penso che siano doverosi complimenti agli avversari perché comunque secondo me la Roma è una squadra che fino alla fine penso che lotterà per le zone alte. Ha giocatori di esperienza e conosco la Lega molto bene, ha giocatori anche di qualità in ogni ruolo. Quindi è una squadra secondo me molto quadrata e veramente per prima cosa esprime complimenti verso gli avversari. Per la partita nostra sì, il primo tempo si conclude con parata, sul rimpallo traversa, sul rimpallo traversa ancora e finiamo il primo tempo 2-1, forse poi entriamo in campo diversamente. Di sicuro quello che hai detto tu è giusto, fotografa un po' la nostra situazione attuale dove segniamo poco, però abbiamo subito pochissimi gol fino adesso e oggi è una partita dove secondo me ne regaliamo tanti di gol. Cioè ne regaliamo veramente tanti, ripeto complimenti agli avversari e questa non è una giustificazione, però andando a vedere le occasioni secondo me oggi i gol loro vengono da errori nostri di superficie, forse neanche un po' di arroganza magari il fatto di non voler liberare la palla buttandola via, una giocata di troppo e giustamente con giocatori del calibro comunque di Seferi, di Rossi, di Cichella, sono tanti a frecce comunque nell'arco della Roma e va a finire che poi il gol subisci, lo subisci su punizione, lo subisci costanta dell'importa. Poi ripeto, forse il 2-1 all'inizio del secondo tempo, cioè segnando all'ultimo secondo del primo tempo ci è arrivata una partita diversa, ma credo che questa è una partita che la possiamo giocare 10 volte e finisce sempre comunque di tanto a poco per loro. A prescindere dalle soluzioni offensive che sicuramente avete e che stasera non avete avuto, hai provato in mezzo al campo varie soluzioni, sei partito con Cesar centrale per poi spostarlo a sinistra, hai spostato Fennetti da una parte all'altra, di caso c'è una soluzione in questo momento di convincere maggiormente quando soprattutto quando avete Cesar a disposizione? Cesar è la seconda partita che fa con noi, la partita con Golbet è una partita strana, il portiere si infortunia, noi giochiamo un po' diversamente, per cui questa è un'altra partita particolare perché la Stella Azzurra è un campo dove noi non facciamo quasi mai risultato, è difficile che facciamo risultato per il gioco che esprimiamo noi, abbiamo bisogno di spazi e questo è un campo molto piccolo dove questi spazi non ci sono. Di soluzioni non lo so, nel senso i centrali a questo punto sono tre, perché Nolano purtroppo ha un piccolo problema alla schiena che di nuovo lo sta un po' costringendo a giocare di meno e quindi avrei voluto partire con lui, centrale di centrocampo, perché credo che qui le sue caratteristiche anche di gran tiratore potevano essere viste, nel senso che alcune occasioni le ha stato bravo il portiere, ha scheggiato la traversa e via dicendo. Però non è che c'è una soluzione in più, diciamo che se ci mancano Mario e Rocco, sono due giocatori che aprono le difese e in quel caso troviamo difficoltà perché magari in questo momento le cose non stanno girando benissimo a livello offensivo di realizzazione. Poi bisogna stare calmi, adesso non so cosa ha fatto il CJ, cosa ha fatto il Chiecco. C'è perso. Eh beh, CJ ha perso, è una notizia positiva per noi perché non ci staccano più di tanto, rimaniamo là, abbiamo perso questo sconto diretto, ma ripeto, veniamo da un trittico di partite importanti, abbiamo fatto sette punti, però manteniamo la serenità, il campione è lungo, siamo alla quinta, di certo questo momento non è un momento felice per noi, sebbene comunque fossimo unito a una bella partita con Golbet, ci rialzeremo, adesso ci aspetta il Cottini, giocheremo con il Cottini tranquilli, cercando di recuperare il maggior numero di giocatori possibili, credo che potrebbero esserci nuovi innesti e in base a quello poi ci regoleremo di conseguenza un campionato dove mancheranno, adesso mancano ancora 26 partite, quindi i giochi sono totalmente aperti. Grazie mister. Grazie a voi.